bella a tutti ragazzi sono baby shark video oggi siamo in un nuovo video oggi andiamo a recensire il tappeto per la recensione si ragazzi ho fatto un po di acquisti tra cui un poggiapiede per il telefono molto utile questo è il sarebbe un poggiapiede ma spero io lo uso per recensire le cose stava cadendo il poggiapiede con tutto il telefono e stava ancora per cadere di nuovo va bene allora attimo che lo sposto un po detto così ok ok ci siamo allora ragazzi oggi ho preso due cose le altre sarebbero tre però va bene qualcuno già avrebbe potuto entuire sono delle bustine un album ed è l'album signori del collegio allora ragazzi il collegio è una serie tv per chi non lo sapesse tipo un reality show in pratica dove ci sono dei vabbè il collegio che cos'è il collegio è una scuola dove ci sono professori che ti insegnano l'educazione quella che non ho io esattamente non sto scherzando allora andiamo ad unboxare innanzitutto il nostro come si chiama college college album il nostro album del collegio il collegio va bene questo sarà l'album del collegio il collegio abbiamo una foto di classe che c'è anche a c'è anche nelle bustine che ho preso sono due bustine una all'interno e una all'esterno e il prezzo ve lo scriverò in descrizione anzi ve lo dico e il pezzo è in tutto una bustina e una bustina e l'album costano allora solo l'album e la bustina è stata inclusa questo pacchetto costa un euro mentre un pacchetto singolo costa un euro quindi è come se l'album è gratis è come se comprate giustamente una figurina adesso andiamo ad aprire qua c'è la foto di classe come vi ho detto la foto di classe qua c'è il preside brutto no scherzo non è brutto però io voglio trovare vari trucchi ma no la mi spunti eccolo l'ho trovato c'è anche l'album allora quest'anno è realizzato negli anni 50 che schifo dai ho trovato una roba bellissima che si attacca al muro cioè vorrei fare vedere come si è attaccata al muro ha un pozzo di colla strana si è attaccata al muro va bene ok spero che si sia visto allora questo è l'album c'è qua il collegio questo è il collegio e in anni 80 e qui dietro abbiamo una penna di quelle la multicolor si molto bella un pennerello si un pennerello nero e una matita e qua il cosa nel collegio questo è di quest'anno è mille novecentottantadue quindi negli anni 80 aspetta non ci credo allora io non so se c'è stato qualcuno che si chiamava mario rossi c'è mario ecco lì le scorsi anni c'era una che si chiamava rossi località a roma vabbè queste sono le robe questo è il vario il coso c'è samuele fazzi gabriamo tuori vincenzo crespino il gigante buono Giorgio ciupila giorgi zupila che è e qua è che è stato il don giovanni poi abbiamo gianni nuzio musella il rapper a poco anche professori bello come abbiamo alex giorgiovic oh mio dio ragazzi io non ci credo qui hanno scritto il maccio il masco mentre Mario Tricca hanno scritto il filosofo che lui non è neanche il filosofo va bene poi abbiamo il professor il professor Calavan si chiama Wanyan la Petolicchio Maria Rosa Petolicchio Luca Reina e poi abbiamo Alessandro Carnevale di arte poi abbiamo Paolo Bosio il preside Bosio ma lo so dire Bosio poi abbiamo il professor Maggi che si chiama Andrea poi abbiamo c'è Benedetto oh mio dio lui dove sta poi abbiamo Francesco non mi ricordo aspetta lo vado a leggere in una delle prime pagine Giulio Maggi di Vincenzo Tricca Maggi eccolo qua Francesco Cardamone il Narciso raga lui è quello che mi fa spaccare alle risate perfettino e questo è il vario album adesso andiamo a spacchettare le figurine allora questa plastica la togliamo ecco qua le figurine come vedete questo è il dietro mentre questo è il davanti ora voglio aspetta vedete al contrario ma ma hanno fatto al contrario cioè questo è il collegio e cioè allora hanno messo tutto va bene hanno fatto apposta va bene andiamo a spacchettare la prima sono tutto uguali prima ah comunque vai c'è il professor Reina guarda ora sì no allora diciamo che c'è ah non vi ho detto cosa c'è all'interno tre sticker da raccogliere nell'album quindi un foto sticker e un meme sticker allora questo cos'è il foto sticker io non guardo oggi lo state vedendo vedete così così adesso così adesso così ok perfetto io non l'ho guardato ok 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 perfetto andiamo avanti con il nostro 5.000 ma dove sono ecco allora partiamo col meme sticker ci sono anche quelli degli altri anni questo è ma Gabriele forse non mi ricordo e c'è scritto quando ti mando un vocale di 5 minuti e fai questa faccia ovviamente bello veramente bello c'è scritto attacca dove vuoi poi sticker numero 29 George Rich penso no è George quindi c'è il cognome wow roba bella e l'uno un pezzo del del foglio del collegio e c'è George ok perfetto e alla seconda sono veramente brevi queste pacchetti a motore di nuovo allora il photo sticker li guarda alla fine 3 1 photo sticker così 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 non lo so andiamo avanti ok il photo sticker non li ho visti il meme sticker non si vedono più like su instagram e fai questa faccia boh vediamo il numero 97 con cardamone mi pare schia che fa tipo così abbiamo questa vorrei sia masia se non sbaglio e poi l'ultima è andrea penso questo adesso ragazzi voi vi siete divertiti avete visto un bel video tutte cose ma io ma io ancora non so i photo sticker quindi andiamo a vedere il primo che è questo non guardo non so se ci metti così ok chi è questo oh no ho visto anche l'altro vabbè tanto voglio vedere Sara quella che non studia cioè io immagino prima che l'avete vista così così bello e poi abbiamo il signor George sto andando attaccare qua George non è George George sono molto belli direi che ovviamente per un euro si sta e l'album vi consiglio di prenderlo molto carino molto sto vedendo che c'è un topo eh si vabbè un come si chiama quella cosa brutta un ragno che sta facendo facendosi facendosi questo è italiano una passeggettina nel mio computerino non lo ammazzo perché io sono animalista forever e poi non lo so lo prenderò e lo lancerò ma no nell'erba va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e dobbiamo arrivare a 500 like se volete un'altra come si dice un'altra un'altra video gli spacchettamenti magari di altre due figure figurine figurine non solo due altre due pacchetti di figurine e bella raga mi raccomando seguitemi su instagram baby shark video bella raga